La pescheria Il Corallo è impegnata ogni giorno nell'offrire ai suoi clienti solo il meglio dei prodotti ittici d'acqua salata e dolce. Antonio vi aspetta la sua pescheria in via Sorrentino numero 39 a Cava dei Tirreni. Ed alla fine è giunto il grande giorno in cui il maestoso albero di piazza Vittorio Emanuele III si illuminerà per la prima volta. Questa sera infatti alle ore 19 è in programma la cerimonia di accensione che vedrà protagonisti principalmente i più piccoli. Infatti a partire dalle 17 prenderà il via l'animazione a cura dell'associazione Genitori Insieme. Ma soprattutto ai piedi dell'albero sarà posizionata la cassetta della posta di Babbo Natale. Così i bambini potranno imbucare le letterine con le rispettive richieste confidando di trovare sotto l'albero, allestito in casa propria, il mattino di Natale i doni residerati. Tutte le scuole cavesi dell'infanzia e primarie sono state invitate a partecipare all'evento. Oggi l'albero, domani invece sarà il giorno dei mercatini di Natale. Prodotti ed articoli tipici della tradizione natalizia riempiranno fino al 7 gennaio le casette in legno posizionate già da alcuni giorni in diversi punti del centro cittadino e contribuiranno a proiettare ulteriormente la città nell'atmosfera delle festività invernali. In previsione dell'afflusso di visitatori che nei prossimi giorni raggiungeranno la città metelliana, dal 1 dicembre al 15 gennaio è stata istituita zona al traffico limitato in tutto il centro cittadino, per i bus turistici con più di 8 posti. Quest'ultimi potranno far scendere i passeggeri in Piazza Vigliano, nei pressi della stazione ferroviaria, e parcheggiare, facendo pervenire la prenotazione alla metella servizi, al terminal bus dell'area mercatale di via Palatucci, tranne il mercoledì e sabato, giorni in cui, a causa del mercato rionale, dovranno parcheggiare nel piazzale Gramsci. Le tariffe giornaliere sono 60 euro, 40 euro per i minibus fino a 8 metri, dal lunedì al giovedì, esclusi i festivi. 100 euro, 80 euro per i minibus, venerdì, sabato e domenica, inclusi i festivi. I passeggeri potranno risalire a bordo del bus in corso Principe Amedeo, all'altezza del Trincerone 3.